Ben trovati amici telespettatori. Ancora un appuntamento speciale di Culturalmente Parlando e lo dedichiamo a Domenico Mazza. Domenico Mazza è una di quelle persone che ama tanto il territorio della Magna Grecia, che fa parte del Comitato della Magna Grecia e che ha scritto questo libro proprio dedicato a quest'area che rappresenterebbe sicuramente per tutti noi un punto di orgoglio ma anche di essere tutta una comunità e di dare a questa regione un'immagine anche diversa, un'immagine culturale, un'immagine storica, una immagine innovativa. Il titolo del libro è La Baia della Magna Grecia. È sicuramente la premessa di Matteo Lauria quella di mettere in evidenza in questo libro quelle che sono le prospettive che possono rappresentare questo territorio. Allora, intanto benvenuto nei nostri studi, sono veramente contenta di spiegarti. Mi è trovata. E volevo dirti, Mimmo, parliamo di questo libro. Questo libro racconta quella che è la storia della Magna Grecia, ma soprattutto racconta anche un po' un report su quello che è stato fatto per ricostruire questa Baia della Magna Grecia. Ma diciamo che in realtà va a ricostruire quelli che sono stati questi ultimi quattro anni. Come sai, quattro anni fa lanciammo un'idea insieme ad alcuni amici, a Matteo Lauria e ad Antonio Caruso, lanciammo un'idea di immaginare un nuovo comitato, che chiamammo appunto Comitato Magna Grecia, che si sforzava di immaginare un nuovo ambito provinciale che mettesse insieme l'area Sibarita e quella Crotoniate. Non era un pretesto o comunque un capriccio, nasceva tutto da un ragionamento molto semplice. C'era stato qualche anno prima un processo amministrativo importante, parliamo della fusione di Corigliano e Rossano. Le due estinte città in qualche modo avevano fatto un passo avanti ed erano riuscite a creare un'amalgama, e quindi una fusione, in un territorio, quale quello calabrese, laddove normalmente siamo abituati a chiuderci, non siamo aperti alle novità e in qualche modo a trovare dei processi politici che possono in qualche modo rappresentare un orizzonte di prosperità e benessere. Da quell'idea, dalla possibilità di far nascere quindi una città importante a nord rispetto al crotonese, si è immaginato subito di poter creare un ambito d'aria basta che bilanciasse uno scriteriato sistema Calabria che purtroppo dal regionalismo partito 50 anni fa ha dimostrato che questa regione è stata sempre gestita e governata a tre teste. I famosi capologhi storici, anche la successiva creazione delle province di Crotone da un lato e Vibo Valencia dall'altro che gemmavano dalla ex provincia di Catanzaro, purtroppo non avevano rappresentato e non hanno rappresentato una miglioria per quei territori. Per quale motivo? Perché comunque non si è pensato a creare degli ambiti simili e soprattutto che fossero legati per omogeneità territoriale, per interessi comuni. E se allora noi creiamo e abbiamo fatto in modo che negli ultimi 50 anni ci fossero delle aree che si comportavano da Davide e altre che si comportavano da Goli e oggi abbiamo comunque questa condizione in cui ci possiamo tranquillamente definire un territorio che può essere chiamato non più Calabria ma Calabrie. Un tempo avevamo la Calabria Citra e la Calabria Ultra, oggi abbiamo una Calabria Tirrenica e una Calabria Ionica. Quella Tirrenica conosce il significato del termine emancipazione. E' riuscita in qualche modo ad avere una serie di servizi che in qualche modo ti danno l'idea di essere comunque in un posto accogliente e che soprattutto si prospetta verso gli anni a venire. Purtroppo la Calabria Ionica ancora non conosce il significato del termine emancipazione. Eppure siamo cittadini come tutti gli altri, paghiamo le tasse, eccetera, ma abbiamo meno servizi. Abbiamo bisogno di ritornare a fare politica e di inquadrare con quelle che sono le potenzialità di questi territori un orizzonte di crescita. Allora, quando tu parli di un'area vasta tu parli di Crotone, Corigliano Rossano, Policoro, Taranto e Gallipoli. Quindi un'area vasta, veramente vasta e che potrebbe essere un luogo, anche perché diciamo sono zone conosciute, arrivano tante navi come stanno arrivando a Crotone in questo periodo, no? Cioè è un'area che potrebbe rappresentare un territorio in crescita costante, un punto di riferimento non solo per la Calabria ma anche per altre regioni e nello stesso tempo rimettere in moto quello che è l'orgoglio del nostro passato. Ti dico in estrema sintesi, partendo dal presupposto di immaginare questo nuovo ambito provinciale in Calabria, quindi mettendo insieme il crotonese e la sibaritide, e dalle ceneri di quella che sarebbe a quel punto la provincia di Crotone, potrebbe nascere una nuova grande area vasta, che di fatto con un doppio capoluogo, Crotone a Sud, Corigliano o Sanon Nord, bilancerebbe uno scriteriato sistema Calabria. Ma la cosa più bella è che da quest'area potrebbe aprirsi un concetto importante di area metropolitana e non città metropolitana, che poi è un abuso un po' italiano quella della città metropolitana, guardiamo all'Europa dove sono nate le aree metropolitane, che abbia un appeal Calabro-Appolo-Lucano e riprenda quel ragionamento del Golfo di Taranto, che ci è piaciuto definire Baia dell'Arco Ionico, non tanto in funzione dell'Oionio stesso, perché è chiaro la Baia normalmente è un qualcosa di piccolo, se pensiamo che il Golfo di Taranto è la parte preponderante dell'Oionio, potrebbe sembrare surreale definirlo Baia. Ma se allarghiamo poco poco l'orizzonte e inquadriamo tutto il bacino del Mediterraneo, noi ci rendiamo conto che quella piccolissima Baia è il baricentro perfetto del Mediterraneo, lo è stato nella storia e lo sarà anche nei prossimi anni, perché comunque gli equilibri geopolitici internazionali stanno riportando il baricentro nel Mediterraneo e noi non possiamo, essendo il centro di questo ragionamento, rimanere alla finestra e continuare a comportarci e ad essere trattati da landa, l'esolata e depressa, perché sembrerebbe quasi, e la storia lo dimostra, che da Sibari in giù il mondo si sia fermato. Non credo sia giusto e soprattutto non credo serva né alla Calabria, né alla Lucania, né alla Puglia, perché far crescere l'Oionio non significa paradossalmente ridare soltanto dignità all'Oionio, ma a crescere le potenzialità di tre regioni, perché tu mi insegni, questa è una riviera fondamentalmente, la chiamiamo costa, ma di fatto se escludessimo il promontorio di Caporizzuto, di fatto siamo in una grandissima pianura, quindi le potenzialità dal punto di vista dei tre settori principali, quello turistico, quello agricolo e della rigenerazione industriale, parlo di rigenerazione green, green, basti pensare semplicemente all'apparato industriale dismesso a Crotone, l'ex apparato Enel su Corigliano Rossano e l'Arcelon Mittal di Taranto, ci darebbe l'opportunità di immaginare e declinare questo territorio veramente con una prospettiva diversa. Dobbiamo avere soltanto il coraggio di osare, di fare quello che non è stato mai fatto e soprattutto di crederci, perché vedete la storia del Comitato Magna Grecia è molto semplice, quando siamo partiti quattro anni fa la gente ci prendeva per matti, all'inizio è stato molto difficile riuscire a lanciare un pensiero in un territorio come quello calabrese molto chiuso su se stesso, con barricate che ci sono già tra un comune e l'altro, talvolta anche all'interno delle stesse città, un pensiero plurale, un pensiero policentrico, un pensiero che amalgamasse e quindi creasse un concetto di rete fra i territori, laddove ci sono i presupposti per creare rete, è chiaro che è rivoluzionario. Pensa, siamo partiti quattro anni fa con una semplicissima pagina Facebook, oggi quella pagina Facebook è la pagina più seguita in Calabria, eppure non abbiamo mai sponsorizzato una nota stampa. Questo per farti capire che comunque quando si crede in qualcosa e si lavora per qualcosa, ma si fa con spirito di sacrificio, al tempo stesso come se fosse un hobby, i risultati poi arrivano. Certo, i risultati arrivano perché c'è la buona volontà di andare avanti, di non lasciarsi sopraffare da giudizi, da problemi che vengono creati, da quella cultura che ci porta molto spesso a pensare che chissà perché lo fanno, perché vogliono fare questo. In realtà quando si riesce a fare un comitato, quando si riesce a mettere insieme diverse intelligenze e un professionismo di diversi soggetti, le cose possono cambiare. Infatti pensare a una visione di un territorio, una nuova visione di un territorio, sarebbe veramente mettere in evidenza che questa nostra realtà, e non solo Clotone, ma mi riferisco a tutta la Baia, potrebbe essere per tutte le città che ci sono in questo territorio, in questa Baia, un motore di ripartenza. Parliamo sempre che la Calabria è ultima in ogni classifica, Clotone poi non ne parliamo proprio perché è sempre all'ultimo gradino di ogni classifica, però voglio dire, noi abbiamo un passato, una storia così importante e soprattutto fare rete tra i comuni e tra i territori, quella visione che tu prospetti e che vorresti portare avanti con questo libro e con il comitato è proprio quello di dire ce la possiamo fare, possiamo cambiare rotta e fare in modo che da ultimi ripartiamo in classifica raggiungendo dei posti importanti. Assolutamente sì, hai spiegato in maniera eloquente tutto il ragionamento. Il fatto qual è? Che oggi noi consideriamo questa zona, forse anche a giusta ragione, una zona abbandonata a se stessa perché comunque politica e non oculate, hanno fatto in modo che questa zona venisse in qualche modo resa succursale o periferica rispetto ad altri contesti, pur avendo una storia che di fatto ci aveva posto al centro di un ragionamento internazionale direi, perché tu me lo insegni, quando a Crotone insegnava Pitagora in altre parti si viveva sugli alberi ancora. Eppure noi siamo un popolo strano perché comunque studiamo poco la storia, come italiani in generale, non sono parole mie, sono parole che mutuo dal grande giornalista Indro Montanelli. Poi quando la studiamo di fatto la dimentichiamo facilmente e senza comprendere quello che è la storia e capire laddove la storia in qualche modo ha avuto ragione, noi non possiamo prospettare un futuro a creare un orizzonte. Il libro va a coronare un ragionamento iniziato quattro anni fa, come ti dicevo poco, anzi quasi per hobby, che in qualche modo in quattro anni ha fatto qualcosa di importante, ha fatto politica, ma non quella politica rancida, esacerbata, di casacca, in qualche modo sbiadita o legata a imposte dettature. Ha semplicemente cercato di dare una visione, un orizzonte, una prospettiva su ogni scampolo del ragionamento che è stato avviato sia all'interno della regione Calabria ma anche nel contesto esterno, perché vedi poi la bellezza di questo progetto, l'idea di un'area vasta, di un'area metropolitana, quindi di un percorso metropolitano collegato ad un'area vasta, non è semplicemente ionica. Paradossalmente nasce in questo territorio che oggi probabilmente è l'ultimo territorio d'Europa dal punto di vista dei numeri che ricordavi egregiamente poc'anzi, ma è replicabile in tantissime altre aree d'Italia, perché purtroppo il problema del centralismo in Italia non nasce in Calabria, non nasce a Catanzaro, a Cosenso, a Reggio, nasce a Roma e in qualche modo poi si ramifica su tutte le regioni. Noi oggi abbiamo, e pensa, a distanza di un paio d'anni dalla nascita del Comitato è nata in Umbria, a Spoleto, un comitato molto simile che si pone l'obiettivo di creare una provincia con un doppio capoluogo, Terni-Spoleto, gemmando praticamente l'area della Marrelina dalla provincia di Perugia verso Terni, perché? Perché lì soffrono il centralismo perugino e immaginano un'area metropolitana interregionale tra Marche, Umbria e una porzione del Lazio, perché condividono il famoso ambito centrale dell'Italia. Ecco, quindi riformare l'Italia, riportare oggettivamente al centro dei territori i cittadini è un qualcosa che l'Italia deve fare necessariamente, perché siamo un paese purtroppo vecchio, come sappiamo, e oltretutto non ci siamo aggiornati nel corso degli anni. Tu pensa un dato semplicissimo, oggi la Calabria risulta con 1.850.000 abitanti circa, in realtà sappiamo perfettamente che rasentiamo il milione e mezzo. Abbiamo una condizione in cui all'interno di questo 1.850.000 abitanti abbiamo 404 comuni, perché negli ultimi sei anni cinque comuni sono stati cancellati dalle fusioni di Casali del Manco prima e Corigliano lo stanno dopo. Abbiamo una media di 4.300 abitanti per comune. Capisci bene che questa regione ha un appeal medio nella sua realtà urbana di un borgo rurale. Come ci presentiamo al cospetto dell'Europa, dove siamo parametrati semplicemente su un discorso territoriale, ma soprattutto demografico? Non andiamo in Lombardia, la vicina Puglia, che è il triplo quasi della nostra popolazione, alla metà dei nostri comuni e il comune medio pesa 25.000 abitanti, è una pilda cittadina. È chiaro che determinate progettualità, finanziamenti che arrivano dall'Europa possono essere in qualche modo attinti in maniera molto più semplice perché ci sono i requisiti e soprattutto perché hanno capacità di riuscire a convogliare quei comuni e quelle province e quegli ambiti che condividono comunque interessi economici nel creare progettualità di ampio respiro che in qualche modo possono riverberare poi veramente un aumento dell'offerta di lavoro, che poi è il vero cancro che abbiamo qui da noi. Se non creiamo presupposti per aumentare l'offerta di lavoro, questo territorio finirà per essere desertificato. La verità è questa, che quando c'erano le fabbriche e gli operai lavoravano, nelle famiglie c'era economia, i figli andavano all'università, tornavano a Crotone e lavoravano. Ora che cosa succede? C'è la voglia di dare ai giovani l'opportunità di rimanere nella propria terra, ma non ci sono le condizioni. Se non si riesce a mettere insieme una serie di progetti che possono servire a dire a questo territorio, puoi contare su questo, puoi fare questo. Allora, nei giorni scorsi sono stata al convegno di Confindustria che era imprese e intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è intesa però come progettualità per questo territorio. Ecco, noi abbiamo questa storia che potrebbe essere sicuramente riferimento per i giovani, per lavoro, per studio, per conoscenza e potremmo fare tante belle cose. Assolutamente. Tu hai citato il caso di Crotone che poi è quello più emblematico da questo punto di vista. Sappiamo perfettamente che negli anni 70, quindi non stiamo parlando di millenni fa, parliamo di 50 anni fa, economicamente era il cuore pulsante di questa regione. Perché riusciva a fornire quello che dicevi? Di fatto avere la possibilità di oltre 5 mila salari più l'indotto all'interno di una città, comunque una città meridionale, non stiamo parlando di grandissime aree metropolitane. Era un'isola felice della Calabria. Era un'isola felice. Ma perché? Perché c'era comunque un contesto lavorativo. Sì, magari poi ha portato una serie di problematiche, perché comunque parliamo di industria pesante. Ma oggi noi dobbiamo pensare a una cosa fondamentale, lo dicevo poc'anzi. Quei tre ragionamenti, turismo, agricoltura e rigenerazione industriale, parlo di rigenerazione green naturalmente, ci darebbero l'opportunità veramente di creare le basi per aumentare l'offerta di lavoro. Di tornare ad essere una città di migranti che vengono nella nostra città, di emigranti che vengono nella nostra città. Non solo, ti cito semplicemente un dato. Quando pensiamo al turismo, come fosse anche giusto che sia, perché comunque c'è stata un'oculata campagna di marketing negli anni, in Calabria pensiamo a Tropea, pensiamo a Capovaticano, eccetera. Che sicuramente sono delle località stupende, bellissime. Però l'offerta posti letto su quei territori, intendo la costa degli dei, è un'offerta che viaggia sui 30.000 posti letto. Tu pensa che fra la Sibaritide e il Crotonese, e intendo prevalentemente poco meno di 100 km di costa totali, Villa Piana, Cassano Sibari, Corigliano Rossano, Crotone, Isola Cutro. Abbiamo oltre 42.000 posti letto disponibili. Con un vantaggio, le caratteristiche di questa costa, che dicevamo sono riviera, metterebbero l'imprenditore, l'impresa, in condizioni di poter investire a un costo assolutamente inferiore rispetto alla costa tirrenica, perché è una costa falesia, laddove oggettivamente anche investire costa molto di più. È chiaro che se però noi continuiamo a rimanere isolati dal mondo, e intendo isolati infrastrutturalmente, perché qui il problema non è semplicemente che l'aeroporto di Crotone non funziona, che il nodo di Sibari non è potenziato, che i due porti di Corigliano Rossano e Crotone al momento non hanno uno spiagno, non funzionano gli asset che già abbiamo. E pensiamo a creare altro. Io credo semplicemente a una cosa, che mettendo a sistema già quelle che sono le portualità all'interno di questo bacino, pensa, abbiamo da Le Castella, Santa Maria di Leuca, 24 attracchi portuali e altri tre in costruzione. La Costa Azzurra non ha 24 porti. Ora, avere però questi asset che già esistono e non farli comunicare fra loro significa semplicemente lasciarli all'abbandono. Noi parliamo dei porti principali, parliamo di Crotone, di Corigliano Rossano e di Taranto. Pensa, abbiamo Taranto, che negli anni passati è stato il porto al quale hanno attraccato più navi da crociera, perché sono riusciti a creare in qualche modo un percorso, una destinazione che da Taranto percorre tutta la Valle d'Itria, laddove non solo le coste, ma anche l'area dell'entroterra, che poi è direttamente afferente alla costa ionica, se è d'accordo, ma di fatto hanno creato una destinazione turistica. Noi non siamo stati capaci ancora di creare una destinazione turistica. E tu mi insegni, tra il valore archeologico dell'area crotonese e quella sibarita, potremmo, per mettere il tè, mangiarci il mondo. Eppure continuiamo a ragionare legati a dei ragionamenti succursali con aree che oggettivamente con noi purtroppo non condividono economia. Io non credo sia giusto che le aree interne, che vivono comunque prevalentemente un'economia basata sull'indotto statale, debbano poi governare delle aree che invece dovrebbero vivere di terziario turismo, che hanno quindi un approccio all'economia totalmente diverso dalle altre. Ecco, ritornando e capendo oggettivamente che gli ambiti di costa devono essere gestiti e governati da chi conosce e vive le coste, è alla base del ragionamento. Sì, e questo ragionamento, questa conversazione che stiamo facendo, è una conversazione che ci spinge a dare sempre più informazioni, a far capire che si può fare veramente tanto. Ecco, dobbiamo smettere di lamentarci, di piangerci addosso, di sentirci la terra di nessuno. Dobbiamo invece pensare che quel passato che ci ha rappresentato e che ci ha tenuto in bella vista per tanto tempo, può essere un passato che con le giuste persone, con il giusto impegno, potrebbe diventare presente e futuro. Cioè, noi parliamo di turismo. Ecco, nei giorni scorsi sono arrivate diverse navi, ne è arrivata una con 2300 passeggeri che hanno fatto il giro di tutta la nostra città, no? Sono stati anche alle Castella, sono voluti andare in Sila, ma sono voluti andare nel Centro Storico, sono voluti andare a Capocolonna. Ecco, queste aree però devono essere messe a sistema, devono essere immagine di una città che è in grado di accogliere i turisti e di mettere in mostra le sue bellezze. Quindi, tu pensa una baia, no? Tu pensa una zona così larga, che cosa potrebbe portare a tutti i comuni? E cosa potrebbe portare come turismo al sud? Un turismo sicuramente diverso da quelli a cui sono abituati ormai gli americani, i tedeschi, gli inglesi, tutti coloro che arrivano da fuori. E tu pensa per un attimo cosa potrebbe significare creare delle compagnie di navigazione su quelle 24 portualità che ti metterebbero in condizioni in un'ora e mezza di navigazione, perché di questo parliamo, perché poi la particolarità del Golfo è questa, i 400 chilometri di costa, di fatto si azzerano sulle vie del mare. In un'ora e mezza parti da Crotone, sei a Gallipoli, rientri a Crotone, il giorno dopo puoi essere a Taranto, ti sposti sei a Santa Maria di Leuca. Capisci che vai ad offrire un pacchetto turistico importante che può portare flussi turistici notevoli, è lì che aumenta l'offerta di lavoro, è lì che l'imprenditore ha tutto l'interesse a investire, perché parliamoci chiaro, gli imprenditori non sono dei missionari, investono laddove giustamente c'è un ragionevole tasso di interesse, qui ci sarebbe un ragionevolissimo tasso di interesse, ma se noi continuiamo a rimanere isolate da quelle che sono le geometrie europee, mi riferisco alle reti TNT che in qualche modo devono connettere i territori con il centro dell'Europa e continuiamo a fare quella politica che è stata fatta a partire dagli anni 70, quando elettrificando la ferrovia arrivati a Sibari si decise di portare elettrificazione sul lato tirrenico, lasciando morire pian piano le ex città di Corigliano e Rossano I, oggi Corigliano e Rossano, e portando alle catombe Crotone, quando Crotone era il centro della Calabria dal punto di vista dei collegamenti ferroviari. Poi sappiamo come è andata la storia, di fatto Trinitalia ha deciso di investire sull'elettrico e tutto ciò che è rimasto non elettrificato e quindi comunque con convogli diesel, pian piano è stato portato a essere il ramo secco. Oggi si sta nuovamente lavorando su questa elettrificazione della ferrovia, però di fatto siamo dal 2018, tre investimenti, ma ad oggi restano semplicemente dei plinti metallici che servono da alberi come posa per gli uccelli, cioè non abbiamo ancora compreso un qualcosa, senza una forza politica importante, senza un ambito amministrativo importante, non abbiamo un peso specifico, continueremo a restare satelliti a determinate geometrie che puntualmente vanno a dividere questa regione a tre test e noi siamo succursali a questo ragionamento. Pensa, l'idea Magna Greccia è riuscita in qualche modo a disegnare qualche anno di anticipo rispetto allo Stato, quello che oggi è di fatto il nostro collegio elettorale, cioè il collegio elettorale mette insieme la Sibaritide e il Crotonese ed è paradossale che questo territorio voti alle politiche insieme, poi nei contesti regionali ci ritroviamo con un ambiente nord, un ambiente centro, un ambiente sud. Allora, mi si potrebbe dire ma sono elezioni diverse, sono contesti diversi, sì, però la politica funzionava e tu me lo insegni, quando i rappresentanti in seno al Parlamento, alle regioni, i sindaci, nei comuni, si parlavano, prescindendo dal discorso di Casac, avere unità di intenti nelle progettualità, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, può veramente rappresentare un orizzonte di crescita e noi dobbiamo comprenderlo, capirlo, farlo capire soprattutto alla politica, quella di Casacca, tutte le Casacche, affinché comunque portino avanti un ragionamento di benessere e di crescita. per tutti. Allora, mi fa piacere che l'introduzione storica è di Gianluca Facente, perché chiaramente lui conosce bene la nostra storia, è un appassionato di storia e quindi si mette sempre in movimento quando c'è da realizzare qualcosa. E nello stesso tempo quello che mi fa piacere è che abbiamo fatto questa conversazione in maniera così aperta, dove credo che sia emersa quella voglia di fare qualcosa per il nostro territorio. Intendo tutta quest'area della Baia Magna Grecia, no? E come fare in modo di metterci in relazione con tutti i comuni e soprattutto in relazione fare rete, perché facendo rete si ha la possibilità, ascoltando gli altri prima di fare le proprie proposte, di mettere insieme un progetto, quel progetto che il Comitato Magna Grecia ha voluto avviare. Quell'idea che vi aveva fatto passare per matti, ma per poche persone siete passati per matti perché chi ama la propria terra non può pensare che chi ha voglia di fare lo fa per interessi personali, lo si fa per amore della propria terra e noi dobbiamo alzare tutti la testa e dire questo territorio merita di essere riscoperto, questo territorio merita di entrare in questa rete, questo territorio può essere una delle aree di questo Baia della Magna Grecia. Quindi io ti ringrazio proprio veramente tanto per questa tua presenza, per tutto quello che hai detto perché ancora una volta hai seminato speranza e noi abbiamo bisogno di questa speranza. Ringrazio te per avermi accolto. Grazie a Domenico Mazza, la Baia della Magna Grecia, lunedì 24 luglio è stata presentata al comune di Crotone, lui è venuto nei nostri studi proprio per discutere di questo, ma noi vi terremo sempre informati perché ci crediamo in questa proposta. grazie, grazie a tutti per averci seguito. Grazie. 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 Grazie a tutti.